poi qua sopra invece il profilo della barca è così da questa parte va in questo modo da questa parte viene abbastanza in avanti e poi mi rientra mi rientra così questo gira più largo da quest'altra parte invece se ne va fino a qua in questo modo e poi curva beh quello che vedo è abbastanza credibile dopodiché qui sotto fa così abbiamo visto però qui qui c'è il profilo della pancia e questa pancia mi gira in questo modo qui se ne va proprio qui e poi si chiude ecco qua questo qua laggiù si va bene così perché qui c'è una linea non credo sia la linea di galleggiamento però ok allora questa parte superiore io sto facendo una forzatura sto facendo finta sto facendo finta che la barca sia completamente piatta anche se in effetti la barca si è realizzata di profilo probabilmente davanti cresce un po' e fa così cioè qui cresce un po' detto questo tanto ho questo è un lavoro da fare pulito perché se no si perde tutto è un lavoro da fare pulito che c'è un lavoro da fare pulito perché qui c'è un lavoro da fare pulito che c'è un lavoro da fare pulito che c'è un lavoro da fare pulito che c'è un lavoro da fare pulito un lavoro da fare pulito che c'è un lavoro da fare pulito grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Continuiamo domani.